Il Movimento 5 Stelle concorda con l'ordine del giorno presentato dal Sindaco Seri? No, eventualmente, solamente per una parte. In effetti questo documento ha un'incongruenza secondo noi di fondo molto importante. Da una parte chiede la realizzazione dell'ospedale unico e quindi in pratica poi la chiusura dell'ospedale di Fano e degli ospedali limitrefi. Dall'altra invece chiede la difesa e la riqualificazione dello stesso ospedale di Fano. Sia ben chiaro, i soldi per tutte e due le cose non ci sono, bisogna fare una scelta. Noi ci chiediamo in realtà oggi, appunto questi cosiddetti paladini della difesa del Santa Croce, dove erano e dove sono. Il PD e Seri erano con spacca al governo della regione a favore dell'ospedale unico e oggi sono ancora con Ceriscioli in regione a favore dell'ospedale unico. E ci chiediamo anche il centrodestra che oggi vota addirittura a favore questo documento del Sindaco. Dove era? Era per dieci anni alla guida della nostra città. Proprio questi dieci anni che hanno visto il depotenziamento del nostro ospedale Santa Croce. Beh, io dico che fin dall'inizio, ripeto, fin dall'inizio il Movimento 5 Stelle invece ha fatto una scelta di campo e cioè no all'ospedale unico e sì invece a una riqualificazione, riorganizzazione dei servizi sanitari nelle strutture esistenti. In questi giorni siete stati anche attaccati dall'opposizione fanese. Che cosa rispondete? Beh, ci hanno definito degli responsabili o quelli che strumentalizzano questo argomento. Noi a casa nostra in realtà questa la chiamiamo coerenza e pensiamo che la nostra proposta sia in realtà una proposta reale, fattibile per un discorso di una sanità completamente nuova che si avvicina ai cittadini e nei territori. Grazie. Grazie. Grazie.